L'autore è trombettista. Nella sua produzione di musica da camera c'è un brano per il quale l'autore si è basato su un omonimo brano composto da un organista e musicista inglese, si chiama William Birte, che è vissuto tra il 1540 e il 1620. Il titolo del brano è Cavallo. 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 Il titolo del brano è Cavallo.